Questo è un video che non avrei mai voluto fare, ma che sono costretto a fare per qualcosa che non dipende da me. Perché lunedì scorso, su striscia la notizia, è andato in onda questo in prima serata. Amici follower, c'è un fenomeno online che alcuni psicoterapeuti ritengono sia simile all'effetto che fa il cervello la cocaina per un tossico dipendente. È quello dei video guru, che spiegano come guadagnare tanti soldi nei loro vari video online. Al 30 settembre 2023 il mio patrimonio ammonta a 507.439 dollari ed è in aumento dell'1,12% dallo scorso mese. E pare che questo crei dipendenza come nei ludopatici. Ed in questo servizio questa è la premessa. Quanti sono i personaggi che su web ci avvindolano promettendoci guadagni facile e una vita sfarzosa. Per poi durante il servizio, dopo di me, citare ostentatori, maghi, sessisti e antisistema. Io ragazzi quando l'ho visto mi sono sentito male. Praticamente in prima serata tv, agli occhi di tutti, sono stato accostato a questa tipologia di figure. Al che, sono sincero, è partita la rabbia perché non è possibile. Non ho mai venduto un metodo mistico, magico, di guadagno facendo leva con i soldi o con tutto quello che hanno fatto vedere in questo servizio. Che in realtà in sé, come argomento, non è neanche sbagliato. E finalmente per la prima volta anche in tv si tratta di questo tema dove io stesso cerco di fare sensibilizzazione. Soldi, guru, ostentazione, denaro per spacciarsi, eccetera eccetera. Il problema è che non è stato fatto alcun tipo di approfondimento. E io ora, a casissimo, perché sono magari il più grande in Italia che parla di soldi con trasparenza, mi trovo ad essere paragonato all'antisistema di turno. Al che ovviamente mi sono calmato e ho chiamato due amici avvocati. E sapete cosa mi hanno detto in parole povere? Riccardo, non so quanto ne valga la pena. Considera che loro sono i migliori a gestire questa tipologia di situazioni. Non hanno problemi ad essere denunciati dalle multinazionali, figurati. Poi una richiesta di rettifica la facciamo. E se, come è probabile, non modificheranno nulla, procederemo come da tuo diritto alla querela. Ma non aspettarti nulla di veloce. I tempi della giustizia, purtroppo, sono totalmente scollegati dal danno e dal clamore mediatico. Così, ovviamente io procederò nonostante i tempi e vi terrò aggiornati. Però potete immaginarvi che in quei momenti mi sono sentito impotente. Ed è ingiusto tutto questo. E un po' sorrido per non piangere perché, cioè, ragazzi, questo canale nasce con l'obiettivo di combattere il tabù sul denaro. Parlandone in modo oggettivo e trasparente. E nel tempo mi sono preso anche tutti i rischi correlati al condividere esattamente quanti soldi ho, dove si trovano e tutti gli errori che ho fatto nel percorso. E finché c'è il commento dell'hater o della persona che non mi conosce, o si limita a guardare soltanto 30 secondi di un mio video senza conoscere il contesto generale delle cose che dico, io posso capire e provo empatia. Perché tante cose che dico decontestualizzate possono anche non aver senso. Ma quando vengo preso in prima tv in un servizio intitolato fare soldi subito, sogni pericolosi di ricchezza venduti sul web, allora la situazione è intollerabile. Anche perché lo spezzone del mio video che si prende è uno spezzone della rubrica mensile dei miei investimenti, dove ogni mese spiego e revisiono l'andamento del mio patrimonio e dei miei investimenti. Ed in questo caso nel servizio viene preso in esame il mese di settembre. Al 30 settembre 2023 il mio patrimonio ammonta a 507.439 dollari ed è in aumento dell'1,12% dallo scorso mese. Perché come dico e come avete appena visto per me è andato bene. Però questo servizio di striscia è andato in onda il 6 novembre ed in quel giorno era già pubblica la puntata di questa rubrica aggiornata al 30 di ottobre, dove come sempre con trasparenza non mi nascondo e infatti riprendendo quel video Al 31 ottobre 2023 il mio patrimonio ammontava a 490.380 dollari ed in perdita del 3,44% rispetto allo scorso mese di settembre il mese di ottobre è stato il secondo peggiore da inizio anno. Perché nel servizio non è stato messo questo spezzone più recente e aggiornato? La risposta è semplice, l'autore aveva bisogno di un pezzo che decontestualizzato provasse ancora di più il suo messaggio sensazionalistico di odio e sicuramente qualcuno che fa vedere in modo trasparente una perdita non va bene. E la cosa non è neanche scusabile perché puoi pensare magari non l'ha vista questa puntata aggiornata. Peccato che poco dopo nel servizio viene citata esattamente la copertina di questo video più recente. Ma tralasciando per un attimo me, la cosa più grave è che l'argomento di cui si parla è un vero problema e meriterebbe di essere trattato in modo più approfondito. Perché purtroppo, e lo vediamo in giro per tutti i social, ci sono sempre più persone che con tecniche di marketing discutibili o addirittura truffaldine vendono prodotti o servizi di bassa qualità a prezzi proibitivi facendo leva sull'ostentazione. Ed è una figata che Striscia inizia a parlare dell'argomento. Però in questo servizio non viene dato nessuno strumento per capire come individuare ed evitare queste persone, servizi o prodotti. Allora sapete cosa? Dato che odio lamentarmi e basta e che l'argomento tocca in prima persona anche me, facciamo un po' di sensibilizzazione. Come identificare ed evitare queste persone, prodotti o servizi? Vi do quattro punti fondamentali. Numero 1. Evita chiunque ti venda qualcosa focalizzandosi soltanto sull'ostentazione, sul sogno, sul risultato. Senza che poi ti spieghi effettivamente cosa andrai ad assumere o imparare. Se dopo il pitch di vendita non trovi effettivamente un elenco chiaro delle cose che ti andranno ad insegnare o di cosa ti porterai a casa di preciso, ma è sempre tutto molto vago, basato sul mindset, sui risultati o sul sogno mistico, evita. Punto numero 2. Fai ricerche sulla persona o sul prodotto che stai comprando, cercando di capire da dove viene e qual è il suo curriculum, prestando molta attenzione alle fonti che vai a consultare. Perché ormai un articolo o la scrittura di un libro non vogliono dire nulla. Chiunque può farlo o comprarlo. Noi da bravi consumatori, per tutelarci e non cadere nelle truffe, dobbiamo essere bravi ad approfondire il curriculum nel tempo. Punto numero 3. Evita chiunque denigri la vita normale o faccia leva sul tuo senso di inferiorità. Ragazzi, non esistono loro e noi. Non esiste un sistema e tu non sei schiavo del sistema. E prestate molta attenzione a chi utilizzi questa metodologia di comunicazione, perché quello che cercano di fare è creare un effetto setta. Punto numero 4. Massima attenzione ai metodi di marketing non etici, come falsa scarsità o urgenza, ultimi posti, ultimi prodotti o ultimi minuti, quando in realtà non è così. E occhio alle false recensioni. Ragazzi, online purtroppo quasi tutto si può falsificare. Perciò prestate molta attenzione, approfondite e usate il buon senso. Oltretutto, se le promesse che vi avevano dato alla vendita non sono rispettate, avete tutto il diritto di essere rimborsati. Non abbiate paura di far valere questo diritto. Ed in linea di massima per custodire questi quattro punti, ricordatevi che sapere è potere. Detto questo, dopo la rabbia e la sensazione di impotenza iniziale, giusto per raccontarvi cos'è successo e come sono fatto, dato che sono iperintrospettivo e autoanalitico, mi sono fatto un esame di coscienza. Forse se esci una roba del genere ho sbagliato qualcosa. E riflettendo e tornando indietro, di errori in passato ne ho fatti. E non mi sono mai nascosto. Anche perché su 904 video da me pubblicati fino ad ora, considerando solo YouTube, penso che un paio di errori si possano fare. Nel mio caso, dato che, come sempre, non mi nascondo, apriamo anche questo auto confessionale. Nonostante tra l'altro li abbia già discussi e argomentati in passato, in questi cinque anni di attività, i video che mi pento di aver fatto sono tre. Tutti risalenti ad un periodo di circa due anni fa, quando mi ero appena trasferito a Dubai. E ve lo dico con trasparenza, sono questi tre. In due di questi si va a trattare il tema e-commerce, dando dei consigli e delle tecniche, che però, in parte, ed errore mio, l'ho approfondito soltanto dopo aver pubblicato il video, non sono il massimo dell'eticità. Mentre in quest'altro video si va a spiegare come mettere in piedi un progetto cripto. Ed in sé, se uno lo va a vedere con curiosità, è poi quello che succede. Senza sponsorizzare o spingere nulla. Il problema qui è che qualche mese dopo la pubblicazione del video, la persona che ho intervistato è sparita, e presumibilmente ha fatto sparire dei soldi a discapito dei suoi investitori e del suo team. Questo, purtroppo, quando l'ho intervistato non lo potevo prevedere. Anche perché pensavo di conoscere questa persona. Ma ora, senza che sto qui a raccontarvi tutta quella storia di nuovo, ancora due anni fa ho fatto diverse live e ho scritto un post che vi lascio linkato in descrizione, dove spiego cosa è successo e come anche io abbia perso soldi in tutto quello schifo. Comunque, al di là di questi tre errori, di questi tre video di cui mi pento, io ho sempre girato tutti i miei video con il migliore degli intenti. In questi tre casi, però, e lo ammetto, non sapevo abbastanza e o non potevo prevedere. Però, da un certo punto di vista, errore mio, ed in passato mi ero già scusato, lo rifaccio con trasparenza qui oggi, e comunque questi avvenimenti all'epoca mi hanno insegnato ad approfondire molto di più la persona ed il tema prima di parlarne in un mio video. Poi, se vogliamo continuare la mia autoconfessione quasi da masochista, come vi dicevo prima, sono iperintrospettivo e autoanalitico, il servizio parla di video guru. È quello dei video guru. Perché l'autore è molto attento a non usare il termine fuffaguru, per non cadere in eventuali problemi. E dato che il servizio parlava proprio di questo, ho provato a forzare la mano e autoaccusarmi di essere un video guru. Però io, di corsi di mia proprietà o di video in vendita, non ne ho. Poi, per carità, se uno vuole fare il pignolo e va a cercare, trova. Un corso introduttivo sulla creator economy, che più di due anni fa avevo realizzato per Selfmade Club, che è un servizio di proprietà di Flowey, a sua volta detenuta da Mediolanum, che come sappiamo, e fa anche un po' ridere, è molto legata a Mediaset. In ogni caso, quel corso, anche per mia volontà, è rimasto iperaccessibile e comunque attuale. Anche se in questo momento io non c'ho nulla a che fare, perché ora non è di mia proprietà. Poi, continuando a fare i pignoli, come immagino sappiate, collaboro con un percorso di un anno, di più di 34 ore, a tema trading online. Che però anche questo ho realizzato in collaborazione con Investire.biz, una realtà storica nel mercato italiano con anni di esperienza nel settore. Anche questo prodotto finale non è mio, ma comunque partecipo, perché penso che quello che si vada a fare abbia un valore. E comunque, anche se ad ora non ho un prodotto io, non vuol dire che chi lo abbia sia un truffatore. Io personalmente, in passato, ho pagato e ho seguito diversi corsi e consulenze, che poi hanno più che soddisfatto le prerogative con cui venivano venduti. Ma in ogni caso, tornando al punto del video, anche considerando tutto questo, trovo ingiusto, inaccettabile e intollerabile il servizio che è stato fatto. Facendo di tutta l'erba un fascio, generalizzando, decontestualizzando e utilizzando il sensazionalismo per creare solamente odio e paura, senza poi dare realmente nessuno strumento, se non un gruppo Facebook, per prevenire truffe o evitare le persone che ci abbindolano sul web. Per citare Lipari. E soprattutto questo, come classico all'italiana, vengono anche demonizzati i soldi ed elevato il tabù sul denaro. Cosa che, con massima trasparenza ed onestà, sto cercando di combattere da anni. Assurdo. Poi, se mi venite a chiedere cosa vorrei che succedesse ora, sicuramente vorrei tanto che il danno che è stato fatto alla mia immagine venga compensato con una qualche retifica. Ma so già che con ogni probabilità questo mai accadrà. E io sono fortunato perché dopo questo servizio ho ricevuto centinaia di messaggi di supporto di persone che, come me, avevano notato questa ingiustizia. Sono comunque schifato da questa situazione. Però, per come sono fatto, confido nel buono e sono ottimista. Perciò provo addirittura a rilanciare. Messaggio per striscia. Quando si parla di denaro o di truffe, credo oggettivamente di saperne qualcosa. Oltre ad essere diventato nel tempo, anche grazie agli errori, molto meticoloso. Io sono qui, conosco bene i social e posso aiutarvi a portare questi messaggi al grande pubblico. Cosa che già faccio da anni in questo canale. Credo che questo sia un ottimo modo per aggiustare questo danno e trasformare questa situazione negativa in qualcosa di buono. In descrizione c'è la mia mail ed io, in primis, mi metto in gioco. Mentre per tutti voi, se avete seguito fino a qui, vi chiedo per favore di condividere questo video il più possibile. Per fare in modo che arrivi al maggior numero di persone e che una situazione del genere non accada più. Ed infine vi chiedo gentilmente di rispettare l'autore, la rete, il produttore e tutte le figure coinvolte nel servizio. Cerchiamo insieme di far diventare tutta questa situazione qualcosa di positivo. Però, sinceramente, che schifo.